Ben ritrovati affezionati telespettatori della rubrica alimentazione e salute. Come sempre sono in compagnia del dottore Andrea Ricci, biologo e nutrizionista. Fa caldo e abbiamo voglia di cose fresche, ma allo stesso tempo buone. E qual è il dolce più amato dell'estate? Il gelato. Ma in realtà qual è la composizione del gelato? Quali sono i suoi ingredienti? Sì, il gelato viene spesso considerato come uno snack, qualcosa di rinfrescante, ma in realtà è un vero e proprio alimento. Questo perché gli ingredienti principali sono appunto il latte, le uova, lo zucchero, a cui ovviamente vanno aggiunti anche gli ingredienti specifici di ogni gelato, quindi la frutta, il cioccolato, il caffè. E ovviamente tutti questi ingredienti ci portano ad assumere tutti quelli che sono i macronutrienti, quindi carboidrati, zuccheri e lipidi. Ma il gelato contiene anche una buona quantità di sali minerali, soprattutto calcio e fosforo, e anche vitamine, soprattutto del gruppo C e del gruppo B. Ci sono delle caratteristiche specifiche che deve avere un gelato per essere definito un gelato di qualità? Sì, allora, un gelato per essere buono, quindi di qualità, deve essenzialmente contenere degli ingredienti, che sono quelli che abbiamo citato, ma devono essere degli ingredienti freschi e soprattutto di stagione. Oltretutto deve avere un sapore ovviamente gradevole, un colore correlato a quello che è il gusto che stiamo mangiando e anche una giusta omogeneità, quindi non essere né troppo liquido né troppo consistente. E la differenza sta soprattutto in questo rispetto a quelli che sono invece i gelati industriali, che sono dei gelati preparati mesi prima di quelli che poi è l'effettivo consumo e quindi hanno tutta un'aggiunta di altri ingredienti, quali conservanti, coloranti e addensanti. Ma in realtà, il gelato fa ingrassare? Possiamo avere dei consigli per consumarlo nel migliore dei modi? Allora, sì, il gelato è essenzialmente un alimento ipercalorico. Se pensiamo ai 100 grammi di gelato, siamo sulle 250 calorie per un gelato alla crema e sulle 150 per quello che invece è un gelato alla frutta. A cui dobbiamo anche aggiungere, nel caso del cono, 20-30 calorie. Allora, per chi non ha problemi di peso e quindi non ha patologie che possano essere correlate al consumo di gelato, un gelato in questo periodo estivo lo possiamo consumare anche dalle 2 alle 3 volte a settimana. Invece, perché a dieta è preferibile consumare non dei gelati veri e propri, prima di più orientarsi su sorbetti, ghiaccioli, che hanno comunque un numero di calorie inferiore e quindi anche un numero minore di grassi. Per quanto riguarda invece quando consumarlo, direi che la cosa migliore è sempre comunque come spuntino, quindi non a fine pasto per non aumentare ancora le calorie di un pasto tradizionale e solo eccezionalmente può sostituire un pasto completo. Questo perché è vero che contiene tutti i macronutrienti, però comunque ha un basso indice di sazietà, quindi nel giro di poco tempo torneremo ad avere ancora più fame. È aumentato il consumo del gelato vegano. Quali sono i pro e i contro e che differenza c'è rispetto al gelato tradizionale? Sì, sono molto diffusi adesso nelle gelaterie questi gelati per chi continua a seguire un'alimentazione di tipo vegano e quindi dove essenzialmente si va a sostituire quelle che sono le uova o il latte tradizionale con il latte di soia e il latte di riso. Nel caso del latte di soia, per esempio, abbiamo comunque il vantaggio di non avere colesterolo e di assumere anche una maggiore quantità di fibre. Però esistono anche dei gelati per chi è intollerante al glutine, perché le cialde possono essere fatte anche con farina di riso, oppure per chi è intollerante al lattosio appunto si possono acquistare, quindi consumare questi gelati con il latte di soia o il latte di riso, ma per chi è intollerante al lattosio possono essere consumati anche il gelato a base di yogurt. Questo perché lo yogurt, essendo ricco di batteri, va a scindere il lattosio nelle sue molecole fondamentali, cioè il glucosio e il galattosio, senza attivare quelli che sono gli enzimi dell'organismo. Grazie dottore, seguiremo certamente i suoi consigli preziosi e l'appuntamento è alla settimana prossima, sempre con la rubrica Alimentazione e Salute.